Videostar, la storia della televisione a Biancavilla dal 1986 ad oggi. È stato questo il tema dell'incontro organizzato dall'Accademia Universitaria Biancavillese che si è tenuto ieri pomeriggio nei locali di Villa delle Favare a Biancavilla. L'appuntamento culturale si inserisce fra le attività programmate nell'anno accademico 2022-2023. Ad essere ospiti dell'Accademia sono stati il presidente di Videostar nonché direttore di Star News Alfredo Ranno, i giornalisti Giuseppe Terranno e Orazio Caruso e il collaboratore Antonio Alessandro Marino Zappalà. È stata l'occasione per raccontare la storia dell'emittente, la nascita che risale a 36 anni fa, il ruolo di Videostar nella comunità biancavillese e non solo aneddoti e curiosità di fronte ad un'attenta platea che più volte ha applaudito dimostrando affetto e stima per il lavoro svolto in tutti questi anni di informazione. È stata la presidente dell'Accademia Universitaria Biancavillese Rosa Lanza ad interloquire con i rappresentanti di Videostar. Durante l'incontro è stato proiettato un video che ha racchiuso brevemente la storia dell'emittente attraverso il racconto di alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato il territorio. Alcuni dei soci dell'Accademia hanno poi posto delle domande ai relatori e raccontato anche esperienze di contatti diretti con la redazione di Videostar, rimarcando l'importanza della presenza della tv locale che è sempre stata vicino alle esigenze dei cittadini. Una bellissima serata perché ci ha raccontato attraverso i video da loro prodotti tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti dalla loro nascita ora di Biancavilla, dalle manifestazioni culturali, assembleare del comune, insomma ci hanno fatto vedere uno spaccato veramente del nostro paese ed è stato piacevole ascoltare la loro esperienza e quello che è stato per noi anche un momento ricreativo e culturale. Quindi una serata all'insegna della cultura e del ricordo di come eravamo. L'Accademia Università di Biancavilla si occupa anche del ciò che avviene nel territorio per cui avere una televisione proprio locale è una ricchezza che noi riconosciamo da ora, da sempre. Come pure abbiamo diverse volte invitato anche il nostro sarto Salvatore Papotto, diverse volte l'abbiamo omaggiato, il musicista Salvatore Pennisi. Quando ci sono delle eccellenze come siete voi, in effetti avere, ripeto, una televisione locale che si occupa di tutto il territorio e dà le informazioni relative a tutti gli avvenimenti, buoni, cattivi, comunque è una cosa di cui bisogna essere orgogliosi e noi vi abbiamo omaggiato insomma con questa serata insieme a voi. Per noi di Vito Stare è stata una grande soddisfazione, non possiamo dire che grazie, non una volta, cento volte grazie, perché è stata l'unica associazione che ha avuto un pensiero così gentile e sincero nei nostri confronti.